In questa mattinata si è parlato anche del ruolo della fiera in un mondo globalizzato. Quale valore aggiunto può avere la fiera per portare le piccole e medie imprese fuori dall'Italia, ma per farlo per agganciare la ripresa? Quali sono le parole chiave? La prima parola chiave è relazione. Non dobbiamo comprare metri quadrati da una fiera, ma dobbiamo comprare metadati, cioè arrivare alla fiera non con la canna da pesca, cercando di pescare clienti, ma con la miti trebbia, perché abbiamo seminato prima e quindi raccogliamo ciò che abbiamo seminato. Quindi la fiera non deve dare soltanto spazi, ma deve dare processi relazionali. Questo è il primo punto importante. Il secondo punto è che bisogna arrivare alla fiera con una forte componente organizzativa, quindi relazione, organizzazione. La fiera comincia subito e comincia da dentro all'impresa, comincia con un progetto di attenzione, rispetto delle scadenze e con una proposta di servizio, che è il terzo punto. In fiera non si esportano o non si espongono prodotti, si va a proporre un patto, un patto di servizio. E servitizzazione è il terzo termine. Ormai con la rivoluzione del manufacture, in particolare con le nuove tecnologie, l'automazione industriale, non basta più esporre un prodotto perfetto, bisogna esporre tutti i processi di supporto, di servizio, di gestione del ciclo di vita. E del prodotto e del cliente. Un prodotto viene dato in affido familiare ai nostri clienti, non ce ne separiamo mai in realtà. Quando ha intelligenza a bordo e tecnologia a bordo, deve rimanere questo cordone umbilicale informativo sempre legato. Quindi cos'è una fiera? È l'occasione per scambiarsi queste cose, è una grande massa critica di strette di mano. Bisogna prepararsi per sfruttarlo, ma è certamente uno dei più grandi trampolini per il mondo. Un'ultima cosa, non si va in fiera per fare tentata vendita, si va in fiera per scrivere un impegno di lungo termine, si va in fiera per una promessa di attenzione e di costanza nel tempo. Solo così si trovano non clienti accidentali, ma partner di business per la crescita complessiva di un'azienda. Ci permetta un'ultima battuta, perché oggi si è parlato molto anche di industria 4.0. A che punto è l'Italia su questo? L'Italia si sta risvegliando da un torpone manifatturiero che è durato per troppi anni, sta riscoprendo la centralità dell'industria. Non deve riscoprirla con modalità tradizionale, deve riscoprirla nel nuovo criterio, che è proprio questo criterio in cui dobbiamo far funzionare insieme tutte le cose. L'idea dell'industria 4.0 è proprio quella dell'Internet of Things, di cose che si parlano, di cose e persone che diventano parte di un sistema integrato. L'Italia ha un po' di difficoltà a fare sistema, lo sappiamo, ma qui verrà aiutata dal fatto che finalmente i prodotti diventano interoperabili. Questo consente di riportare in patria i prodotti, quindi di fare cosa si chiama reshoring, riportare in patria i processi produttivi, ma di esportare servizi. Per cui si dice sempre la rivoluzione dell'industria 4.0 è made in Italy, ma serviced everywhere. Quindi poter portare pezzi di processo produttivo, pezzi di servizio dovunque al mondo. Solo così, combinando il made in, forte, chiaro, simbolico, col serviced everywhere, allora riusciamo veramente a cogliere l'opportunità della crescita globale.